Buonasera e bentrovati con l'informazione di Telebari e Radio Bari da Roberto Maggi. In primo piano, tra nuove alleanze e silenziosi accordi, i clan criminali di Bari si riorganizzano e si sfidano per il controllo dei quartieri. Le bande dominanti restano però quelle degli strisciuglio. I dettagli nel servizio di Cristina Ferrigni. Da capo clan a ladro d'appartamento, Andrea Montani, personaggio di spicco del crimine organizzato negli anni 90, dopo 28 anni di carcere torna in cella per rapina. E lui, l'uomo arrestato in flagrante dalla polizia a Ferragosto, dopo aver svaliggiato un appartamento a Carbonara. Un gesto che, stando racconto fornito da lui stesso agli inquirenti, sarebbe stato costretto a fare per sfamare la famiglia. Non certo una nota di merito nella logica criminale per il clan Montani, un tempo temuto nel quartiere San Paolo, oggi sotto il dominio del clan strisciuglio che tiene sotto stretto controllo altri sei quartieri. Libertà, San Girolamo, dove lo russo sono emarginati, Enziteto, Barivecchia e Carbonara. Obiettivo anche il Madonnella, territorio conteso con il clan Parisi-Palermiti di Iapigia, soprattutto dopo l'agguato ai fratelli Rafaschieri. Indeboliti anche i clan mercante di Omede a Carrassi-San Pasquale, dove, come dimostra l'ultima indagine della DDA di Bari, condotta dai carabinieri, si era riorganizzato il silente clan Velluto, che aveva messo in piedi un impero economico per il traffico di droga con l'Albania. Nuove tracce della presenza dei Parisi-Palermiti, secondo gli investigatori della DIA, sarebbero state trovate ad Altamura, a riprova della tendenza dei clan ad espandersi sul territorio extraurbano, dove possono contare su gruppi criminali autoctoni disposti a stringere alleanze operative. Cambiamo completamente argomento. Il percorso per non vedenti di Corso Vittorio Emanuele a Bari, il centro della polemica tra il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Filippo Melchiorre, e l'assessore comunale ai lavori pubblici, Giuseppe Galasso. I dettagli nel servizio di Serena Russo. La polemica si consuma già da qualche giorno su Facebook e ha come oggetto il cosiddetto percorso luce su Corso Vittorio Emanuele. Parliamo dei tratti di strada ideati per facilitare le passeggiate alle persone non vedenti, in particolare del percorso donato dal Lion Club di Bari diversi anni fa. Inizialmente realizzato su tutta la lunghezza del Marciapiedi, sull'isolato che ospita il Comune di Bari, è attualmente presente solo sugli incroci, perché è eliminato nella parte centrale in seguito ai lavori di rifacimento del Marciapiedi che ha consentito alcuni collegamenti tecnologici con Palazzo di Città. Da qui la polemica. Noi questa mattina ci siamo fatti un giro su una delle principali vie cittadine con il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Filippo Melchiorre. A me pare che il dono che i Lions nel 2011 fecero all'amministrazione comunale sia stato di fatto rovinato, perché percorrendo Corso Vittorio Emanuele e tutte le strade limitrofi si riscontrano delle anomalie. Nel senso che ci sono due percorsi della luce, uno in non continuità con l'altro, ci sono dei Marciapiedi dove il percorso della luce è su tutto la careggiata, mentre in altri è solamente all'altezza degli incroci. Non vi è il collegamento del percorso della luce al muro per consentire al non vedente di potersi orientare, perché un non vedente quando finisce il percorso della luce è come se si buttasse uno che non è in grado di poter nuotare in un oceano. Quindi non sa che cosa fare. Schizofrenia quindi nell'eliminazione del percorso su alcuni punti e il mantenimento su altri, troppa lontananza dalle zigrinature dei muri adiacenti che costituiscono il cosiddetto percorso naturale quindi, sono i punti essenziali della critica mossa dal consigliere. Il percorso luce originariamente fatto anni fa è stato valorizzato dalle nuove esecuzioni fatte sia su Via Sparano sia su Corso Vittorio Emanuele, ovviamente con un'attenzione anche alle esigenze sopravvenute rappresentate dalle associazioni di categoria. È molto importante precisare che la chiusura dell'Oges sul muro, così come si può riscontrare anche vedendo tantissime immagini di persone non vedenti che si muovono disponibili in rete, non necessita di essere molto attaccato allo stesso prospetto, ma può stare tranquillamente a una piccola distanza, anche perché il bastone che utilizzano i non vedenti ha una lunghezza variabile tra 105 e 120 cm e quindi questo permette un arco di osservazione del percorso avanti che è significativo, può arrivare anche a 1,20 m o 1,50 m rispetto all'aste di percorrenza. E potranno essere finalmente realizzati i lavori di sostituzione delle caldaie e dei radiatori obsoleti e non più funzionanti di tutti gli alloggi ERP di proprietà del Comune di Bari al quartiere Sampio, insieme ai lavori di regolamento degli impianti ascensori. La Regione Puglia ha infatti comunicato che ormai è imminente il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che prevederà con la ripartizione delle prossime annualità dell'importo di 61 milioni di euro assegnato alla Regione Puglia nell'ambito del programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di ERP di proprietà dei Comuni e degli istituti autonomi, che così consentirà di finanziare nel 2019 i due progetti presentati dal Comune di Bari. Cambiamo argomento, profumi e colori dal mondo a Parco 2 Giugno inaugurato Gnam, il festival del cibo di strada che farà venire l'acquolina in bocca per tutto il weekend. Un festival della gastronomia, ancora una volta qui a Parco 2 Giugno? Beh, ancora una volta il festival che sceglie Bari, quindi una piazza che risponde al tipo di gastronomia, quindi non solo pugliese, ma una gastronomia che richiama tutta la nazione, tutta l'Italia e non, perché abbiamo da degustare anche piatti spagnoli, argentini, quindi il food oltre quella che è la Puglia, l'Italia e quindi un food internazionale. L'assessore Palone cosa consiglia? Beh, io mangio quasi tutto, direi mangio tutto, quindi consiglio sicuramente di farsi dal primo stand all'ultimo e bere anche una buona birra. Il Presidente di questo municipio invece che cosa consiglia? Beh, io consiglio un buon cibo messicano. Diciamo, hanno scelto, diceva bene l'assessore, Bari è una città che si dimostra sempre ospitale, sono tornati ancora una volta con questo festival internazionale, i baresi si scoprono anche un po' internazionali in questo posto, quindi la carne argentina, la carne messicana è un ottimo consiglio. E ci ha certamente stimolato l'appetito vedere queste immagini, cambiamo per argomento neomamme a confronto nell'Ipercop di Iapigia per la settimana mondiale dell'allattamento che si conclude domani. L'obiettivo dell'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'Azio di Bari e informare sulla relazione tra allattamento e alimentazione. Diverse le attività della giornata, tra cui un laboratorio interattivo di danza e belly painting, l'arte di dipingere il pancione con i colori dell'attesa. Pane di Altamura, DOP, sarà ospite d'onore sulle tavole del Gran Galà del NIAF, la National Italian American Foundation, che si svolgerà a Washington sabato 13 ottobre. La fondazione NIAF, che rappresenta i circa 20 milioni di italo-americani residenti negli USA, ha scelto il pane di Altamura DOP forte, quale prodotto simbolo della Puglia, e ha invitato la Oropan di Altamura a portare sulla tavola delle personalità diplomatiche della politica, della cultura e della finanza, e dei 1.300 invitati che parteciperanno al Galà, i suoi prodotti da forno. Il pane di Altamura DOP della Oropan, quindi sarà servito anche al tavolo della delegazione dei rappresentanti della Casa Bianca, un tavolo che abitualmente ospita anche il presidente degli Stati Uniti. Sarà la prima vera gara da Serie D, e la pagina sportiva, naturalmente, Mister Cornacchini avverte i suoi alla vigilia della trasferta sul campo dell'Igea Virtus, scontate le tre giornate di squalifica, si candida ad una maglia da titolare Ciccio Brienza, solo panchina per Floriano, ancora non al meglio della condizione, ma sentiamo le parole del tecnico del Bari in conferenza stampa. Probabilmente è la prima partita di Serie D su un campo complicato, per come è il terreno, e per come è la squadra, una squadra molto giovane, ma mi sembra molto, molto aggressiva, quindi motivazioni ce l'hanno a mille, ho visto l'ambiente, ho visto qualche filmato, insomma un ambiente abbastanza caldo, e secondo me è proprio la classica partita di Serie D, non sarà bellissima, penso che non sia, ma sicuramente è una bellissima partita, però un po' di seconde palle, insomma dobbiamo essere molto bravi nell'affrontarla, e avere l'approccio giusto. Se tu ti alleni sempre benissimo, e hai giocatori di qualità, secondo me alla fine diventa la normalità quella di vincere, cosa che parecchi, insomma non devi mai mollare la presa, io penso che la cosa giusta sia quella di non mollare mai la presa, quindi devi essere anche abbastanza martello nel ripetere sempre le stesse cose, io dico per me è un'occasione importante, a prescindere che poi mi tengono o non mi tengono a prossimo anno, quella è una cosa che non mi interessa, perché guardo molto al presente, e quindi però la cosa piacevole è quella che io non vedo l'ora di arrivare al campo, perché devi pensare esclusivamente ad allenare, quindi per me è tanta roba, vorrei che nella loro testa ci fosse questo pensiero, quello stesso pensiero, ma che deve essere così, perché è un'occasione per tutti enorme. E proseguiamo con lo sport, lo Xen, il Centro Sportivo Educativo Nazionale, celebra i suoi atleti con la 22esima edizione del premio a loro dedicato, abbiamo incontrato il Presidente Nazionale. Lo sport può salvare la vita, soprattutto ai più giovani, soprattutto a chi crede di non avere possibilità. Lo sport insegna la disciplina, nelle palestre, nelle sale, nei palazzetti, a Bari, anche nelle parrocchie, come quella di San Sabino al quartiere Madonnella, che dopo aver dedicato un corso di teatro ai più piccoli, da quest'anno ha deciso di aprire un corso di judo per tutte le età. La scelta è quella del parroco Don Angelo Cassano, che sulla scia del messaggio di Papa Francesco ha deciso di aprire le porte di un luogo sacro alla città, per distogliere i giovani dalla strada, per aiutare le famiglie in difficoltà, che non hanno risorse per il tempo libero dei propri figli, e per i giovani stessi, creando loro un sentiero alternativo alla criminalità. Noi non possiamo rimanere ancorati al passato, prendere del passato ciò che è positivo, ma cercare oggi, in qualche modo, di andare incontro alle nuove realtà. Come dice Papa Francesco, una chiesa in uscita, che accoglie un po' anche tutte le situazioni, che possono aiutarci a far crescere i ragazzi, nella spiritualità, ma nella vita soprattutto, perché educarli alla vita significa educarli alla spiritualità, alla fede. Una vita alternativa, dentro e fuori le mura della parrocchia. L'obiettivo è quello di allontanare i ragazzi dall'idea del denaro facile, e avvicinarli, magari anche alla strada del successo, quello guadagnato con sudore, fatica, ma anche tanto divertimento. Il judo insegna la disciplina, l'educazione e il rispetto, sono la base fondamentale che questo sport insegna. In più, il judo insegna anche a socializzare, aiuta a trovare anche l'equilibrio, coordinazione con esercizi di attività motoria. Ed è tutto pronto a Terlizzi per il suggestivo evento della sfilata della Madonna del Rosario. La pesta dopo la novena, iniziata il 24 settembre, con la recita del Rosario, comincia oggi e prosegue domani. Lunedì, poi, l'attesissima processione della Beata Vergine del Rosario sul maestoso carro floreale dal nome Mater Lucis, progettato a devozione dell'architetto Floriano Urbano. Ho lavorato al carro per il terzo anno di fila, ma sono sempre molto emozionata, spiega l'architetto. Il richiamo alla corona del Rosario della Vergine è stato nella fase di studio e progettazione il potente mezzo che con la voce, il pensiero e la supplica e la devozione ci riconduce, ci riannuda a Dio. Ed era l'ultima notizia del nostro telegiornale. L'informazione di Telebari però prosegue sui nostri canali social, sul nostro sito www.telebari.it Prima di salutarvi, però, il meteo. Ben trovati da Nikos di Trevi Meteo, un fine settimana con parecchia umidità a tutte le quote. Una zona di bassa pressione si è stesa un po' tutta la nostra penisola, anche se perderà di intensità, ma insomma avrà ancora la forza di apportare variabilità, qualche residuo piovasco su dorsale appenninica e poi guardate altre piogge domenica tra Piemonte, Valle d'Osta, Liguria e Nord della Sardegna. Andiamo a vedere la prossima grafica, ci fa vedere ancora della variabilità sui nostri settori alternati comunque a delle schierite, quindi meno nubi rispetto alla giornata di sabato. Attenzione, un fronte perturbato dalla Francia si avvicina all'estremo angolo nord-occidentale con qualche fenomeno in giornata in arrivo da ovest. E infine, l'ultima grafica ci segnala appunto ombrelli nuovamente aperti, giornata grigia sull'estremo nord-ovest, anche alcuni settori specie del Nord della Sardegna, ma attenzione perché la variabilità è ancora diffusa sulla nostra penisola e probabilmente qualche veloce scroscio di pioggia ancora lo ritroveremo al centro-sud. E migliora sulla Sicilia e la Calabria duramente colpita dall'instabilità, quindi anche qui meno fenomeni. Dettagli, approfondimenti sull'app gratuita di Trevi Meteo di Trevi Meteo di Trevi Meteo di Trevi Meteo di Trevi Ere di Trevi Ere